Incentivare la mobilità ecocompatibile riducendo le emissioni inquinanti nell'ambiente e i consumi di carburanti. Con questo intento i quattro sintaci dei comuni di Caltanissetta, Mussomeli, San Cataldo e Serra di Falco hanno deciso di consorziarsi e partecipare al bando emanato dal Ministero dell'Ambiente nel Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa Scuola e Casa Lavoro. 650.000 euro l'importo previsto del progetto presentato, che se approvato sarebbe finanziato per il 60% con i fondi ministeriali e la restante parte con i fondi comunali. Prevede un'attività che consorzia i quattro comuni che sono Caltanissetta, San Cataldo, Mussomeli e Serra di Falco per gestire insieme un sistema di mobilità che possa agevolare soprattutto i pendolari, in particolar modo quelli che sono interessati agli spostamenti giornalieri, quali possono essere gli studenti, attività che abbiamo anche stretto in collaborazione con l'ufficio provinciale di gestione scolastica, un sistema a rete dove c'è la possibilità di utilizzare mezzi ecologici, quali sono le biciclette elettriche, i bus elettrici, abbiamo previsto nello specifico una navetta a Caltanissetta, San Cataldo, e degli spostamenti interni con benefici del territorio come ad esempio su Serra di Falco e Mussomeli che hanno preferito inserire una zona a traffico limitato ZTL30. Una serie di iniziative che porteranno benefici all'ambiente perché lo spirito del bando è quello di spostare la mobilità singola, l'uso della macchina, l'uso del mezzo collettivo e soprattutto mezzi con generazione elettrica in ogni caso ecocombatibile. Un progetto sperimentale che prevede il coinvolgimento di partner privati e dell'Università Corea di Enna, quest'ultima interverrà nella gestione della mobilità con un sistema di pali di illuminazione intelligenti che consentiranno di gestire l'uso in comune di mezzi elettrici sia privati sia di quelli messi a disposizione dall'amministrazione nonché di monitorare la sicurezza urbana con riprese video a circuito chiuso nei punti di raccolta dei mezzi. L'intento è quello di favorire la mobilità a favore di una riduzione delle emissioni di CO2 nell'ambito del territorio provinciale di Caltanissetta e va nella direzione del PAES. Il PAES è piano di azione sostenibile delle energie, è uno strumento all'interno del quale si inserisce la strategia ovvero la visione futura di quello che si vuole attuare nel nostro territorio. E altresì documento sostanziale e fondamentale per poter ottenere finanziamenti e sbloccare i finanziamenti sulla nuova programmazione FESR 2014-2020.